Grazie a tutti. Ha individuato e tratto in arresto due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I due sono finiti in carcere. Vediamo il servizio. I poliziotti della squadra mobile della questura di Trapani, in esecuzione di due distinti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri irregolari rintracciati nei giorni scorsi a largo dell'isola di Pantelleria e accompagnati presso il neoistituito Hotspot. Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di complesse procedure di identificazione, hanno individuato due cittadini di nazionalità tunisina che già in passato avevano fatto ingresso illegale in Italia, destinatari di due provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Uno dei due doveva scontare una pena di 10 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre il secondo doveva scontare una pena di 4 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale. Entrambi i cittadini tunisini, di cui uno resosi anche responsabile nel 2004, insieme ad altri stranieri irregolari dell'incendio e danneggiamento dei locali dell'ex centro di permanenza temporanea, dopo essere stati arrestati, sono stati trasferiti a Trapani e reclusi all'interno della locale casa circondariale. Da Trapani a Giarre, nel Catanese, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un ladro, un topo d'appartamento che aveva tentato un furto all'interno di un'abitazione, insieme ad altri due complici che sono però riusciti a sfuggire. Ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. Nei giorni scorsi a Giarre, una famiglia che stava rincasando dopo aver trascorso qualche giorno fuori regione, si è imbattuta in tre topi d'appartamento che avevano messo a soccuadro l'intera abitazione. La proprietaria di casa, inserita la chiave nella serratura, si è subito accorta che stranamente la porta non aveva le mandate che lei invece era sicura di aver dato prima di partire per le vacanze. Il sospetto è diventato realtà quando, aperta la porta, ha trovato la luce accesa, tutti i mobili aperti e gli oggetti sparsi per la casa. Mentre la famiglia stava ancora realizzando quanto accaduto, tre uomini col volto coperto sono sbucati da una stanza e hanno cominciato a correre verso la porta per scappare. Il figlio dodicenne della coppia, che per primo si è accorto di loro, ha cominciato a urlare ed è stato colpito alla testa da un malvivente, provocando la coraggiosa reazione del padre, che senza esitare si è scagliato contro i fuggitivi, riuscendo ad afferrarne uno. Ne è nata una colluttazione a seguito della quale il proprietario della casa e lo stesso rapinatore sono caduti a terra, riportando entrambi diverse lesioni. Nel frattempo la moglie dell'uomo è riuscita a chiamare il numero d'emergenza 112 e la centrale operativa dei carabinieri di Giarre ha provveduto subito all'invio della pattuglia più vicina. In una manciata di minuti un equipaggio della sezione radiomobile ha raggiunto l'abitazione della famiglia, trovando la vittima che cercava di trattenere il ladro. I carabinieri hanno subito messo in sicurezza il malfattore, chiedendo poi l'ausilio dei medici del 118 sia per lui che per le vittime. Nel frattempo la centrale operativa di Giarre ha diramato le ricerche dei due fuggiaschi e sono ancora in corso gli accertamenti per identificarli e assicurarli alla giustizia. La pronta reazione del capo famiglia e l'intervento tempestivo dei militari dell'arma hanno fatto sì che i ladri non riuscissero a rubare alcunché perché i gioielli erano nelle mani proprio del ladro bloccato dal coraggioso padre e quindi sono stati recuperati. Portato in caserma, l'uomo è stato identificato in un quarantenne straniero con una lunga sfilza di precedenti specifici alle spalle commessi in varie regioni della penisola. L'uomo è stato arrestato per i reati di lesioni personali e rapina. Parliamo adesso della grave crisi idrica che sta affrontando la Sicilia. I dati sono decisamente critici, la fotografia è a dir poco drammatica, prosciugati, pensate un po' prosciugato, il 20% degli invasi siciliani. Ieri è arrivata anche la bacchettata del ministro Musumeci alle regioni, sono stati utilizzati poco i fondi a disposizione, solo il 30% ha fatto notare il ministro. Dei 701 milioni di metri cubi di capienza autorizzata negli invasi siciliani dall'ultima rilevazione dello scorso 8 luglio, effettuata dal Dipartimento regionale dell'autorità di Bacino, risulta che attualmente ci sono 252 milioni di metri cubi di acqua, appena una settimana prima, 260 milioni, che scendono a 115 sotto la voce volume utile netto per utilizzatori, 120 milioni a inizio luglio. E questa la fotografia dell'emergenza idrica in Sicilia, una situazione molto critica, considerato che a luglio 2023 il volume degli invasi era il doppio di metri cubi di acqua, 528 milioni, rispetto ad oggi. A svuotarsi sono il 20% di laghi e bacini siciliani, 30 in tutto. In molti casi l'accontatore dei metri cubi utilizzabili è fermo a zero, sono sostanzialmente prosciugati. Contro la siccità abbiamo messo a disposizione 1,2 miliardi per le regioni, 400 milioni per progetti già in essere e 800 milioni per nuove iniziative. Il ministro Fitto mi dice che solo circa il 30% risulta essere stato finora utilizzato. Lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, il quale ha poi aggiunto Mi auguro che il dato non sia aggiornato o che ci sia un arretrato sul quale le regioni sapranno lavorare con grande impegno per recuperare il tempo perduto. Abbiamo elaborato 500 interventi, ha affermato Musumeci, per un piano che si dovrebbe realizzare in 10 anni. Si tratta di miliardi e miliardi di euro. Dalla sola Sicilia sono arrivate 52 proposte. Basti pensare che in Italia non si fanno dighe da 40 anni. Intanto gli agricoltori siciliani che ricadono nei comprensori dei consorsi di bonifica saranno esonerati dal pagamento per il 2024 dei ruoli che derivano dall'irrigazione di soccorso. Lo prevede un emendamento alla manovra finanziaria in discussione all'ARS presentato dal presidente della regione Renato Schifani per sostenere gli imprenditori agricoli alle prese con la grave crisi determinata dalla siccità. Per questa agevolazione la norma prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro da ripartire tra i consorsi con decreto dell'assessorato all'agricoltura per ridurre l'onere a carico degli agricoltori fortemente penalizzati dall'emergenza idrica. Un ulteriore sforzo finanziario del governo ha evidenziato il presidente Schifani per sostenere un settore che sta pagando un grande prezzo a causa della siccità senza precedenti nella nostra regione. Tra le conseguenze di questa siccità, in questo caso del grande caldo, c'è ad esempio quello di una vendemmia precoce, mai così precoce in Italia, addirittura nel Palermitano è già scattata. Vediamo il servizio. Il caldo africano che sta investendo l'Italia fa scattare con 10-15 giorni di anticipo la vendemmia che sarà ricordata per essere la più precoce di sempre. È l'effetto dei cambiamenti climatici in atto che con le alte temperature e la mancanza di pioggia hanno accelerato la maturazione delle uve soprattutto al sud. È quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti in occasione dell'avvio delle operazioni di raccolta in provincia di Palermo, a Contessa Entellina. La vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni, rileva Coldiretti, e non solo per il forte anticipo dell'avvio che spalmerà le operazioni di raccolta nell'arco di quattro mesi, caso praticamente unico in Europa. Un percorso che offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale. A pesare è soprattutto il meteo che divide l'Italia in due. Nel meridione, assediato dalla siccità, le viti sembrano aver resistito più delle altre colture, con il caldo che ha bloccato il rischio peronospora, malattia che lo scorso anno ha tagliato 11 milioni di ettolitri in tutta Italia. La qualità delle uve è dunque ottima, con un alto livello qualitativo e l'arrivo della pioggia potrebbe assicurare un buon risultato produttivo. Al nord, le incognite sono invece legate al maltempo, con nubi fragi e grandinate, con i viticoltori che dovranno stare sempre più attenti alla scelta del giusto momento per la raccolta e la lavorazione in cantina. Meteo che pesa, rileva col diretti, anche sui costi di produzione, dall'acqua alle strategie di protezione delle uve dagli eventi avversi e dalle malattie, con un aggravio notevole a carico dei produttori. Cambiamo decisamente argomento. Torniamo nell'ambito del Nations Award, evento che di recente si è svolto a Taormina. Tanti temi affrontati. Tra le altre cose si è parlato anche di sanità, del futuro degli ospedali e di un reparto specifico, il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, attivo presso l'ospedale di Taormina. Sentiamo Mauro Romano. Ferdinando Croce, nelle sue vesti di direttore generale dell'ASP di Trapani. Ecco, come si evolveranno in futuro gli ospedali? È un momento di transizione che quindi vede assommate due fasi apparentemente antitetiche tra di loro. Da un lato il potenziamento del cosiddetto territorio con tutte le strutture che il PNRR e il DM77 del 2022 ci ha consegnato, ospedali di comunità, case di comunità, che mirano a decongestionare in realtà gli ospedali. L'accesso alla struttura ospedaliera dovrà essere residuale o comunque limitato a parametri di appropriatezza ben precisi che scongiurino quindi un overbooking tra virgolette di pazienti che evidentemente invece possono andare a ricevere cure adeguate in altre strutture. E allora le faccio la domanda, quindi si accorceranno i tempi di attesa? L'obiettivo è questo perché è tutto spostato su un lato di prevenzione che mira proprio a afferrare il termine per tempo, la patologia, capire quali sono le cause del male e quindi evitare che si arrivi ad una fase invece acuta, cronicità, riabilitazione. Sono tanti gli ambiti nei quali effettivamente non occorre rivolgersi agli ospedali. Dall'altra parte ci sono territori nei quali non si può prescindere dalla realizzazione di nuove strutture ospedaliere perché ce n'è comunque un bisogno anche rispetto a nuovi canoni di carattere architettonico, urbanistico e soprattutto di sostenibilità ambientale. Salvatore Iacolino, dirigente generale dell'assessorato Sanità. Ecco, a Taormina il centro di cardiochirurgia pediatrica, che futuro c'è? Nei giorni scorsi col presidente Schifani abbiamo incontrato il ministro della salute manifestando il forte intendimento perché possa essere mantenuto questo importante presidio di salute all'ospedale di Taormina. Abbiamo ricevuto confortante disponibilità da parte del ministro e attendiamo intanto una proroga in attesa di una deroga definitiva che consenta la coesistenza di entrambe le strutture di cardiochirurgia pediatrica, quella che opera al civico e quest'altra che opera a Taormina. E' un presidio fondamentale per la comunità e noi confidiamo che questo risultato dal cui a breve possa ritenersi definitivo con la permanenza di questa struttura a Taormina. E sempre alla Nations Award si è parlato di un argomento importante che divide quello relativo al progetto del Ponte sullo Stretto. Sentiamo ancora Mauro Romano. Pino a Falsea, cosa può rappresentare il Ponte sullo Stretto per gli ordini professionali? Intanto il Ponte sullo Stretto rappresenta una cosa straordinaria secondo noi per il Paese, ma per la Sicilia e anche per la città di Messina. Non è una cosa che serve agli architetti naturalmente, è una cosa che serve all'economia dei nostri territori perché riporta l'Italia al centro del sistema dei traffici commerciali nel Mediterraneo. Che tempi ci sono per vedere questo Ponte dello Stretto? Ecco lei, nella sua sfera di cristallo, che tempi vede? Non sono un mago, non riesco a farlo nemmeno, molte volte sbaglio, però dico che c'è una legge dello Stato, una legge recente, che prevede la costruzione di questa infrastruttura, c'è già un contraente generale che ha tutto l'interesse affinché l'opera si faccia e si faccia rapidamente. Più velocemente si fa, più il contraente generale ne trae utilità e più i cittadini ne traggono utilità. Quindi c'è una convergenza di interessi nel fare tutto bene e presto. Quindi credo che in otto anni si potrà avere. Parliamo adesso di trasporti di parte l'ITER regionale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su autobus. Vediamo di che si tratta nel servizio. Riparte l'ITER per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su autobus. Sul sito della regione siciliana è stato pubblicato un decreto tecnico per la decisione di contrarre firmato dal dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti Salvatore Lizio e l'atto attraverso il quale l'amministrazione conferma la propria volontà di avviare la procedura di negoziazione che porterà all'assegnazione del servizio un passaggio propedeutico stabilito dal nuovo codice degli appalti. Nei prossimi giorni la Giunta regionale dovrà approvare il piano dei servizi minimi con l'individuazione delle tratte da assegnare alle aziende aggiudicatarie. Soltanto in seguito nel bando saranno indicati tutti i dettagli di natura tecnico-finanziaria. Il nostro obiettivo è dare certezza e stabilità a un servizio pubblico essenziale per tutti i cittadini, ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Per questo abbiamo già avviato una procedura che prevede un confronto con le aziende interessate, gli enti locali e i portatori di interesse del settore, in modo da definire e condividere le condizioni migliori a garanzia dell'efficienza e del diritto alla mobilità. Siamo ancora nella fase propedeutica del procedimento, ha aggiunto l'assessore. L'importo della gara sarà definito solo successivamente, mentre le tariffe saranno quelle approvate attraverso un confronto con l'autorità nazionale di regolazione dei trasporti. La procedura riguarda quattro lotti, Palermo-Trapani, Agrigento-Caltanissetta-Enna, Messina e Catania-Racusa-Siracusa. È prevista l'applicazione della clausola sociale, ovvero l'impegno delle aziende subentranti ad assorbire il personale già adibito ai servizi di trasporto che sono oggetto della procedura. La durata della concessione è di nove anni. Per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS